Sono Luca Baricelli, sono uno studente proveniente dalla regione Marche in Italia e siamo qui insieme ad altri ragazzi per presentare i nostri progetti svolti presso la nostra scuola di studi superiore l'IS Galilei di Iesi. Abbiamo appunto svolto questi progetti di ricerca scientifica e adesso li stiamo mostrando qua all'ESA di Dubai che è un expo delle scienze. Salve a tutti, io sono Alessio Petrellini, sono un collega di Luca Baricelli e noi in questa manifestazione abbiamo portato un nostro progetto che si chiama Cork e Organic Volatile Compound e il nostro progetto praticamente tratta di come il sughero tende praticamente a interagire con questi composti organici volatili e in particolare come il sughero tende ad assorbirli e di conseguenza la nostra ricerca si applica su ambienti indoor, quindi come il sughero riesce ad assorbire questi inquinanti e di conseguenza migliorare la qualità dell'aria all'interno di questi ambienti.